La curia entra a gamba tesa nel dibattito sulla istituzione della ZTL nel centro storico di Cosenza arrivando a parentare il rischio di un trasferimento degli uffici. Non una minaccia o una indebita pressione su provvedimenti amministrativi del comune, fa sapere con una nota Monsignor Francesco Nolema, una necessità e un dovere da parte delle autorità ecclesiastiche affinché venga ripristinato il libero accesso di tutti i fedeli, compresi i preti e i religiosi, agli uffici della diocesi. Il presule dunque boccia di fatto il provvedimento assumendo una posizione netta in contrapposizione con quella di Palazzo dei Bruzzi, ma, come ricorda Mario Occhiuto nella sua replica, anche in contrasto con l'enciclica Laudato Si, nella quale Papa Bergoglio parla della necessità di adottare misure contro la circolazione delle auto nelle città. Intanto l'AMAC, oltre ad intensificare le navette lungo Corso Telesio, ha istituito un nuovo servizio a chiamata. Da qualsiasi parte dell'area urbana si potrà raggiungere Cosenza Vecchia al costo di 2,50 euro. Se vogliamo ristabilire quella dimensione umana dobbiamo limitare l'uso delle auto in città e le nostre politiche devono essere teste a questo obiettivo. Non possiamo pensare al recupero del centro storico se lo lasciamo attraversato dalle auto. Le auto saranno consentite solo per i residenti, per le persone che lavorano nel centro storico, ovviamente le persone disabili che possono accedere in tutte le zone a traffico limitato. Quindi cerchiamo di riconquistare spazi alle persone e alla vita degli uomini. Queste sono buone pratiche che ovviamente all'inizio hanno sempre un contrasto, hanno sempre un'opposizione, ma noi dobbiamo fare delle scelte impopolari a volte perché altrimenti non raggiungeremo mai i risultati.